Ciao! Sono fatta giù da giù dalla faccia! Oh 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 oh! Perché hai un cianico pieno qua? Che soggettico quando l'ho fatto capito? Non stai filmando? Dai, dai, prendi, prendi che sto a filmare! Dani, non mangi te! Forse va a far farlo! Altro carico! Cari, capiti? Mi sembra anche che va in giro, capito? Si ribalta, mi sa? Anche in cazzo la voleva! Carica bibi! Coccoli, coccoli, fai caro! Ma l'ho capito che è come vango! Carica bibi! Carica bibi! No, devi andare in cazzo e si incazza! Carica bibi! Quando hai il contello è la quarta volta che è l' CAD! Aspo prendete due o tre pezzo che ecco un'alternazione che era spettante... Fortuna che non siamo d'accordo a lavorare. Poi se prende un pezzo a metti un livello per favore! Fancarezza di partire, ci fai con un'ocorda! E', va, poverino che ha mangiato sempre la buccia... Carica bibi! E' buonissimo! E' buonissimo! Ma come fai a sceglierlo?